Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo sul secondo video dello speciale 5 iscritti, ne ho fatto uno prima su minecraft e invece oggi vi mostrerò la mia postazione su cui registro. Dopo il video farò il face reveal, incredibile. Questa è la postazione in cui registro, ci sono alcune cose che non so neanche perché mia sorella fa un casino qua e non so come farvela inquadrare bene. Così, aspettate un secondo, così vedete tutto, guardatemi, il Funko Pop di CDS, il Funko Pop, dell'Oselot di Minecraft e un Enderman. Un Enderman, si vede? Sì, si vede. Bene. Non c'è neanche il mio, ma è il mio, ma è il mio, ma è quello di mia sorella. Bene. Sì, quello di sotto è il mio. Bene. C'è il libro di mia sorella, lo vedete? E' caduto il renderman. Stemmiamo tutto. No problem. Ok. Adesso il mega face reveal a grande richiesta. Non è vero, però ciao. questo sono io. Ebbene, grazie di vuole per i 5 iscritti, l'ho detto anche oggi in un altro video. Io direi che possiamo concludere qua il video e ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Ciao. Ciao.